Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale Ragazzi dopo un periodo difficile che sono riuscito a mettere alle spalle Adesso continuiamo con la programmazione dei video sul canale Oggi tanti video perché dobbiamo parlare anche di MotoGP Dobbiamo prepararci alla sfida di stasera Paris Saint Germain Juventus E quindi ragazzi faremo il pieno nella giornata di oggi Prima di parlare della bellezza di quello che abbiamo visto in MotoGP Dobbiamo parlare della bassezza, della bruttezza che abbiamo visto A Firenze in Fiorentina Juventus Fiorentina Juventus 1 a 1 Ragazzi mettiamola così Secca senza troppi giri di parole O Allegri cambia la Juve O la Juve deve cambiare Allegri Per la prima volta sul canale Su questo canale in un post gara Parleremo di Allegri out Perché secondo me è doveroso A Firenze è andata in scena la triste fotocopia della sfida di Genova Con una squadra che è durata appena 20 minuti Il tempo di segnare con Milik Tra l'altro il suo secondo gol consecutivo Quindi molto bene Poi abbiamo gettato il possibile 2 a 0 Con quel folle non tiro in porta di Meccani Che si è presentato davanti alla porta della Viola Non ha inspiegabilmente calciato Ma ha cercato un assist in mezzo Anche colpendola in maniera non troppo seria Non troppo decisa Un pallone veramente Che poteva essere Ripeto il possibile 2 a 0 E poi abbiamo preso un folle contropiede Sugli sviluppi di un calcio d'angolo a nostro favore Un contropiede folle Tra l'altro ho visto il protagonista di questo contropiede Due acquisti di Massimo Allegri Voluti personalmente da lui Perché Di Maria Anche se nessuno ha detto nulla in merito Ma Di Maria sbaglia Sbaglia sul possibile contropiede Su questo 1 a 1 incredibile Fatto da Kwame Ha sbagliato il posizionamento E poi ha sbagliato anche Paredes Perché è Paredes che lascia in posizione regolare Il calciatore della Fiorentina Poi dopo questo 1 a 1 ci può stare Siamo 1 a 1 a Firenze Ma tra virgolette ce la stiamo giocando Abbiamo anche proposto Fatto vedere delle belle cose Dopo questo il nulla assoluto Il vuoto cosmico Con tanti ringraziamenti a Super Mattia Perin Bravissimo Prima a neutralizzare il rigore di Jovic Come una parata anche aiutato dal palo Ma è stato bravissimo Mattia Perin E nella ripresa ha salvato la Juventus Con una conclusione al limite dell'aria Negli ultimi minuti di Amrabat Che era destinata all'incrocio dei pali E solo Super Mattia Perin Poteva metterla in calcio d'angolo Quindi questo anche per dire Che nel corso degli anni Comunque tanti non erano d'accordo con me Sul fatto che Perin magari Non fosse un portiere da Juventus Io sono l'unico tifoso della Juventus Che ha un canale su Youtube Che dice da anni probabilmente Che Mattia Perin deve essere il titolare della Juventus Perché nei fondamentali Più importanti Che appunto Sono quelli Ripeto Più importanti per una squadra Come quella che deve essere la Juventus Una squadra dominante Brava comunque Nell'impostazione bassa Brava comunque Dovrebbe in teoria essere brava Nel far partire l'azione Il possesso palla Fin dalla zona bassa Della campo In alcuni fondamentali Ripeto Mattia Perin Secondo me è più forte Di voce excesne Però signori La Juventus Non può permettersi Di non tirare Neppure una volta In un tempo Come è accaduto Nella ripresa Contro la Fiorentina Perché parliamo del nulla cosmico Ma il nulla cosmico Che si è potratto Anche con i cambi È uscito di Maria Che non era al 100% Infatti stasera Non è stato preso in considerazione Per la trasferta Contro il Paris Saint-Germain Giusto così Perché se non è al 100% Bisogna preservarlo In vista di gare Più importanti E sono sicuro Che se la Juventus Giocherà così Contro il Paris Saint-Germain A Parigi Non vedo Altre soluzioni Anche tenere in campo Di Maria Potrebbe essere Quanto meno inutile Ma ripeto La Juventus Non ha mai tirato Neppure una volta Verso lo specchio Della porta Non ha mai superato Quasi la metà campo Contro la Fiorentina Ma non parliamo Di conclusioni Nello specchio Parliamo di semplici tiri La Juventus Non si può permettere Di arrivare A un quarto d'ora Dalla fine Con appena 81 passaggi Realizzati Una squadra Che vuole ambire Quanto meno A lottare per lo scudetto Non può farsi Palleggiare in faccia Per 50 minuti Perché più o meno È stato quello Per non parlare poi Delle scelte Passi per la formazione Iniziale Ripeto Un piccolo turnover Che ci può stare In vista della Champions Sono anche d'accordo Sul fatto di mettere in campo Fin dal primo minuto Paredes Perché quantomeno Questa gara Gli è servita Anche per farsi un'idea Comunque Dei compagni Che avvicino Del modo di giocare Di Allegri Quindi Ci può stare Ci sta Lo si accetta Si può comprendere Anche che tu Tenga fuori Dusan Vlaovic E inserisci Milic Perché comunque In uno stadio del genere Un contesto del genere Magari qualche giocatore Della Fiorentina Può anche cedere Con qualche calcione Può farlo veramente male Vista la rivalità Perché comunque La Fiorentina Avrebbe fischiato a morte Vlaovic E io presumo Magari preso dalla foga Un difensore della Fiorentina Poteva anche intervenire In maniera dura Sul ragazzo Per farsi Magari ammonire E prendere l'applauso Del pubblico di Firenze Perché di quello Stiamo parlando Quindi non è uno scandalo Assolutamente Anzi Ripeto Milic ancora una volta Si è dimostrato Un animale D'area di rigore E mi sta veramente Sorprendendo Arcadius Milic Veramente molto molto bene Lui Il problema è che Oltre al gol Non abbiamo Mai consegnato Altri palloni Al nostro polacco Al nostro centravanti Arek Non ha visto Uno straccio Di un pallone Tanto che nella ripresa Ha smesso praticamente Di correre Milic L'avete visto ragazzi Milic si è adeguato I ritmi della squadra Non ha praticamente Andato più A fare pressing Si è fermato lì Letteralmente Sai gli arrivava la palla La gestiva Magari serviva Il giocatore vicino Ma più di quello Niente Quindi anche questo Secondo me È una cosa che Deve far riflettere Il problema sono State comunque Anche le scelte A gare in corso Perché è vero La Juventus Ha sofferto Contro la Fiorentina Ma tuo allenatore Non puoi Accontentarti Di una roba simile Non puoi Anche Devi dare anche Una svolta con i cambi Devi provare A far svoltare La gara Devi provare A infondere Coraggio nella tua squadra Devi dire ragazzi Così non va bene La Juventus A 10 minuti 15 minuti Dalla fine Ha conquistato Mi sembra Con Ken Una punizione Sulla tre quarti Offensiva Per noi Potevamo mettere Magari una palla Al centro Potevamo renderci Pericolosi E invece Abbiamo battuto La punizione Sulla tre quarti Nostra Offensiva E l'abbiamo consegnata In due passaggi La sfera L'abbiamo consegnata A Mattia Perini Quindi siamo tornati In difesa Quindi veramente Incredibile E Allegri Ha sbagliato ancora una volta I cambi Ragazzi Ha sbagliato i cambi Non può tenere in campo Il fantasma di McKennie Perché quello non è McKennie E' un fantasma di McKennie Spaisato Fuori condizione Ha inserito Ken Invece di Vlaovic Ha insistito con Aleksandro Che ormai vittima Di se stesso Ha ricorso A un cambio folle Perché E' diventato subito Un meme Fuori di Maria Dentro Mattia De Sciglio Fuori di Maria Dentro Mattia De Sciglio Evidentemente Si Fuori condizione Di Maria Ma non è che De Sciglio Sia Tutto questo Gran che Non è che è il giocatore Più in condizione Della Juve Insomma Veramente ragazzi A Firenze Abbiamo rivisto Il film Di questo inizio Di stagione Forse Anche dell'ultimo Periodo Dello scorso anno All'interno della quale Secondo me Per 70 minuti Contro la Roma Si abbiamo fatto bene Evidentemente Quei 70 minuti Però sono state L'eccezione Che hanno confermato La regola Perché la Juventus Sta tenendo un trend Che più o meno È sempre quello Abbiamo vinto 3-0 Col Sassuolo Ma alcune cose Le abbiamo fatte bene Ma abbiamo fatto anche Alcune cose Molto molto male Non dobbiamo sottovalutarlo Io infatti dissi Bene il risultato La prestazione Però si può migliorare Ma come punto di partenza Non era male Considerando anche Quello che abbiamo fatto In amichevole Contro l'Atletico Madrid Non dobbiamo sottovalutare questo Poi è arrivata Poi è arrivata Comunque la gara Quella di Genova Dove abbiamo perso Due punti In maniera incredibile Prestazione indegna Con la Roma Abbiamo giocato bene Una bella reazione Di grinta Di voglia E poi ci siamo arrenati Abbiamo comunque Consegnato da Roma Un punto Contro la Rospez Abbiamo ripreso A giocare Come abbiamo giocato Contro la Sampdoria La stessa identica Prestazione Ragazzi La stessa identica Prestazione Con la differenza Che lo Spezia Non è stata brava A fare gol E noi Contro la Sampdoria Invece Non avevamo fatto Neanche noi gol E poi Invece Tutto poi È stato sbloccato Con la punizione Di Vlaovic E con la rete finale Di Milik Ma sono gol episodici Sicuramente Questa qui È una prestazione Che ricalca quelle Forse se è possibile Addirittura Un pass indietro Siamo molto preoccupati Vedo la tifoseria Della Juventus Molto molto preoccupata Allegri Ha sbagliato in campo Ha sbagliato con le spiegazioni Nel post gara Perché sono state Secondo me Al limite Del surreale Ma oltre All'allenatore Vorremmo comunque Chiedere anche I stessi giocatori Se si rendono conto Della maglia Che indossano Perché secondo me Alcuni non hanno Ancora idea Che sono alla Juventus Non potete scrivere Ragazzi Sui social Giocatori della Juve Non potete scrivere Sui social È un ottimo punto Abbiamo conquistato un punto Non era il risultato Che volevamo Come non è il risultato Che volevamo Ragazzi Ma se voi avete Giocato palesemente Per il pareggio La Juve ha giocato Palesemente Per il pareggio Allegri che chiedeva Calma negli ultimi Dieci minuti Perché doveva strappare La Juve il pareggio Come non è il risultato Che volevamo Se c'era proprio Una cosa Che la Juventus Ha ottenuto Voleva e ha ottenuto Era quella di non perdere Contro la Fiorentina Quindi non si può scrivere Sui social Abbiamo ottenuto Il risultato Che volevamo Ma come vi permettete Non dovete Prenderci in giro In questa maniera E mi riferisco Anche a tanti veterani Che hanno scritto Serve una stridiata Per tutti Ecco perché ci auguriamo Che la società I dirigenti Che comunque Non lavorato bene Nel mercato O comunque Chi per loro Si facciano sentire E facciano tremare I muri della continasta Perché tutto questo È inaccettabile Al momento a tremare Però siamo solo noi Ragazzi Increduli davanti A questa pochezza E ripeto Il concetto Che ho spiegato all'inizio O Allegri Cambia La Juve O la Juve Deve cambiare Massimo Allegri Perché non possiamo Andare avanti così Altrimenti Saremo sempre Destinate A non uscire Da questo piccolo cieco Quindi veramente Una Juventus Che non mi riesco a spiegare Veramente non mi riesco a spiegare Perché non è che La Juventus Ha giocato a benzina ridotta Secondo me la Juventus Si è proprio fermata Fermata Incredibile Veramente incredibile Ottimo il primo tempo Con la Roma Ripeto Buona la prestazione Fino al pareggio Di Kwame Poi il nulla Assoluto Con l'incapacità Di creare azioni Degne di nota E la paura mia È che secondo me Non è che Non sono riusciti A creare azioni Che non hanno voluto Esporsi più di tanto Per indicazione tattica Quindi perciò Torniamo al concetto iniziale Allegri out Perché non puoi L'allenatore della Juventus Esporti in questa maniera Far capire ai giocatori Determinati concetti E farli passare per buoni Poche ripartenze Una benzina Che sembra da finire Praticamente prima Della fine del primo tempo E quindi Veramente Tra l'altro La Fiorentina Non È stata anche più impegnata Della Juventus In questo inizio di campionato Perché loro hanno giocato Il preliminare Di Conference League Tra l'altro Contro un avversario ostico Perché il tuente Per la Fiorentina Era un avversario ostico E loro l'hanno passato La grande Quindi Veramente Non mi riesco a spiegare Ripeto I cambi Meccanico E un fantasma In campo Fagioli Che ha avuto sì L'esordio stagionale Ma Non ha praticamente Mai toccato una palla Miretti Che ha fatto L'unica cosa Positiva Del secondo tempo Della Juventus Uno scavetto In profondità Del servire Mi sembra Ken Uno scavetto Sulla tre quarti Offensiva Una giocata Un lampo Di Miretti Che ha provato A mettere in porta Ken Quindi l'unica giocata Degna di nota Degli esterni Ragazzi Ripeto Cosa possiamo dire Dei giocatori Io sono anche in difficoltà Nel fare le pagelle Perché gli unici Che si salvano Per me Gli unici che si salvano Sono tre giocatori Sono Danilo Che ha fatto una prestazione Eroica E monumentale In difesa Tra l'altro Piccola parentesi Aperta Su Danilo Allegri non può Tenerlo in campo Con una caviglia In quelle condizioni Perché si era fatto male Intervenendo Per mettere un pallone In calcio D'angolo E ha preso Una forte botta Allegri se ne è infischiato Praticamente in maniera Pressoché certa E ha continuato A fare i suoi cambi Che non avevano senso McKennie Tenuto in campo Fagioli Che entra per due minuti Così Quindi Ha continuato In questa maniera Ha messo Ken Davanti Prima come esterno Quasi terzino Poi l'ha messo Come aiutante Di Milik Ma poi non gli sono mai Arrivati dei palloni Accettabili Quindi ripeto Tra l'altro Ripeto Parentesi Doveva togliere Danilo a un certo punto Proprio per non rischiarlo In vista della Champions League Stasera Dovrebbe partire Dal primo minuto Ma è stato un rischio Veramente un rischio Abbiamo rischiato Di far fuori Danilo In queste condizioni Kostic Ha provato Ragazzi Ha provato Ma ragazzi Kostic C'è un ragazzo Che vale 12 milioni Abbiamo acquisito 12 milioni Non possiamo Non aiutarlo Dobbiamo aiutarlo Perché Se Kostic Ci rimane da solo Lui non è Un Cristiano Ronaldo Che dal nulla Si inventa I gol Come facevano Con Pirlo E con Sarri Perché Ronaldo All'improvviso Inventava dei gol Quindi Ripeto Se con la Roma Abbiamo perso Dei punti Oggi paradossalmente Con la Fiorentina Abbiamo guadagnato Un punto Perché non lo Meritavamo La Fiorentina Meritava di uscire Dal campo Con la vittoria E con i tre punti Miglior prestazione Per loro stagionale A detta di italiano Quindi italiano Era anche nervoso A fine gara Perché lui diceva Con la miglior prestazione Che abbiamo fatto È impossibile Che non l'abbiamo vinto È inaccettabile Dovevamo vincere Quindi quella È la mentalità Che deve avere L'allenatore della Juventus Allegri In questo secondo ciclo Non ha mai Mai espresso Un concetto A livello anche Di dichiarazioni Da allenatore Della Juventus Quindi Ragazzi Ripeto O la Juve Cambia Allegri Oppure Allegri deve cambiare La Juve Una delle due strade E vedremo Da qui in avanti Quale delle due La Juventus Intenderà Per seguire Ragazzi Questo è il mio commento Il mio primo video Di oggi Juventus Fiorentina Juventus Uno a uno Un punto guadagnato Proprio perché Ne meritavamo zero Adesso però Voglio sapere la posta Nello specifico Mettere like Se questo video vi è piaciuto Iscrivetevi a questo canale Se non potete perdere Gli altri aggiornamenti Su questo canale Ragazzi Io vi saluto Ciao a tutti Da Domenico Aversa Ciao a tutti raga